Il clima di questa villa credo sia una realtà importante, forse unica, ma sicuramente unica qui in Italia, perché? Perché non credo ci siano esempi analoghi, importante perché raccoglie una somma di interessi molto vasti, molto ampi, dove ogni dibattito è permesso con una grande garanzia di libertà intellettuale. Che cosa ha fatto per questa villa? Io ho contribuito, ho fatto molti lavori, molti lavori che sono per ora delle piccole sculture che descrivono e indicano gli ambienti di cui questa villa è costituita, sono una specie di indicazione topografica, cartografica. Non le crea difficoltà il fatto che in Italia, prima di lei, ci sono stati tantissimi artisti, pittori molto bravi, molto noti. Leonardo, Michelangelo e poi... Assolutamente, perché facciamo parte di una... la chiami categoria o corporazione per cui siamo in buona compagnia in questo caso, anzi sono felicissimo e magari saranno anche pochi o una corporazione.